Quando avevo un tumore, quelli della sinistra mi davano sei mesi di vita, un anno al massimo, perché non riuscivano a immaginare di sconfiggermi alle elezioni, ma solo con l'aiuto del cancro della magistratura. Non sono io l'anomalia qui. L'anomalia in Italia sono i comunisti e il loro odio verso di me, il loro uso politico della giustizia. Questa è la vera anomalia in Italia. Solo io ho governato un'intera legislatura. Ho fatto più riforme io in cinque anni che in cinquant'anni la sinistra. Non sono stati al governo, ma sono stati al potere. Sono stati al potere nelle scuole, nelle università, nelle procure, nei giornali, nella magistratura, nella corte costituzionale. quanto è triste la sinistra. È triste e rende la gente triste. Io invece ho voluto ridare una speranza a questo paese. Purtroppo, purtroppo la metà degli italiani non è nemmeno in grado di sperare, perché sa solamente odiare. La sinistra solo questo sa fare odiare me. i miei alleati non erano nessuno. Erano fascisti. Li ho portati al governo, li ho fatti diventare ministri. Erano democristiani che si flagellavano e si battevano il petto in mezzo a una strada. Li ho rassicurati. Quelli della Lega Nord, poi. Tutta Europa mi diceva stai attento. Sono razzisti, stai attento. Ho fatto ragionare anche loro. Ho portato anche loro al governo nonostante mi insultassero e mi dicessero che ero un mafioso. Tutti al governo, ho portato tutti. Se ne fosse uno che mi abbia telefonato oggi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.